Permettetemi di dirlo già in passato, il confronto tra le vostre indicazioni, i vostri suggerimenti e anche le nostre proposte, le nostre idee, ha generato dei risultati anche innovativi, dei risultati importanti a beneficio dell'intera collettività. È un danno per l'intero Paese quando intere filiere produttive, intere categorie professionali incontrano delle difficoltà. Noi ci preoccupiamo anche se i pescatori non vanno a largo a pescare, perché quanti di voi avranno anche constatato che qualche giorno dopo nei supermercati il pesce non era più disponibile. Noi ci preoccupiamo se gli autotrasportatori vanno in difficoltà, perché un'intera filiera logistica si blocca. Ci dobbiamo preoccupare anche dei riders, che già prendono 3-4-5 euro l'ora e devono pagare la benzina, quindi dobbiamo porci i problemi complessivi. Ho proposto un meccanismo traslativo, fondato ovviamente sulla solidarietà, che andrebbe a colpire non i profitti, perché i profitti sono sacrosanti, anche per il Movimento 5 Stelle, perché rispondono alla logica di mercato, ma extra profitti generati eccezionalmente in un periodo particolare. Quindi di fatto andiamo a colpire alcune speculazioni, che ci sono stati oggettivamente, ripeto con extra profitti, stiamo parlando di extra profitti. Dobbiamo lavorare, come abbiamo fatto. Il superbonus nasce da questo confronto virtuoso. Oggi possiamo dire con orgoglio che nel 2021, secondo il Cresme, c'è stato un incremento del 17% degli investimenti in edilizia, con un contributo poi di cui tutto il Paese ha giocato, perché su quel 6,6% del PIL è imputabile alla crescita del settore delle costruzioni. A gennaio 2022, sono dati forniti dall'Enea, gli interventi finanziari riguardanti il superbonus hanno prodotto un risparmio di circa di energia elettrica di oltre 3 milioni di megawatt per anno. Il consumo anno quindi di energia elettrica di circa 1 milione e 100 mila famiglie. Ecco perché noi continueremo anche in questi giorni a fare scudo contro i tentativi di snaturare e rallentare questa misura e continueremo a insistere con grande determinazione, ma è chiaro che abbiamo bisogno del vostro appoggio. Penso anche a strumenti in particolare che potremo poi dosare più specificamente per le piccole e medie imprese. Superbonus energia per le piccole e medie imprese con un credito d'imposta. Valutiamo all'80% e su progetti di autoproduzione di energia rinnovabile oppure anche l'electricity release per dare energia rinnovabile a prezzo fisso per lungo periodo all'industria. Dobbiamo poi assolutamente investire massicciamente sulle rinnovabili, dobbiamo snellire le procedure, dobbiamo cercare di individuare dei percorsi che ci consentano ovviamente di attuare questa rivoluzione che non può fermarsi davanti a burocrazia, a scartoffie e serve sicuramente più coraggio anche nella semplificazione. La transizione per noi è un progetto politico, sociale, culturale. La prospettiva che dobbiamo offrire al Paese è di un risparmio energetico basato anche su comportamenti, abitudini, stili di vita che non comportino rinuncia al conforto, questo lo dobbiamo spiegare bene, ma semplicemente scacciare via alcuni errori che normalmente si compiono. Per noi quindi diventa anche tutto questo un imperativo morale che vorremmo condividere con voi con la vostra disponibilità. Grazie.